ragazzi eccoci qua ma che c***o sta facendo questo audio in mano scusa non capito che sta facendo che sta facendo ora si che ho peccato che sta facendo no questo audio in mano vabbè 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 lo fa una cosa qui andiamo qui ragazzi 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 basta dare basta Sì, no via no sono. Grazie! Sì, c'è un c**o a marli sempre questo Esci, esci, non dico, c'è sempre da lì ma non riesco a... ah ma quella è quella... Ecco la bomba Ma come ti sparo, non è possibile, dai, ma che cazzo, mamma mia, no, ma va, fa quella che... Americano, Americano, ma che cazzo, ma porco Dio, mamma mia ragazza Madonna Madonna Ma voglio cambiare un altro se c'è il prezzo Oh ho Vabbè, quello sta bellissimo Questo Ma che cazzo Ma... Saccheggia Ah, sono via l'Italia Non capisco Leggi Ah, c'è la... Si, ho capito, però Ma quazzo fa' Si, ma qui un po' sandali Che cazzo fa' Che cazzo fa' Che cazzo fa' Che cazzo fa' Ma ci cazzo fa' Eh, ma di là come faccio andare i bunker Un casino, ma non si può ah ecco oh ah ecco ci siamo ah qui oh ma che cazzo poteva andare peggio andiamo di qua che cazzo oh siamo entrato dentro il bunker finalmente vediamo un po cosa c'è dentro vediamo no ma che stai facendo ma cosa stai facendo rotta posizione mi sposto c'è il bunker di qua se mi senti te ne devi andare subito non hai capito eh se di gente che sa te vede cazzo li batte tutti non so che tu vuoi resistere ma ti prego ti scongioro non farlo devi scappare speriamo che non sia troppo tardi oh ecco lo zavoletto si è trovato ok non c'è un cazzo qui dentro cosa c'è vediamo la chitarra c'è pieno ok spacchiamo la chitarra ha spaccato la chitarra bene 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 che c'abbiamo ah prendi oh quanti soldi che c'è rivista vabbè questo è quella vabbè fidiamo questo c'è anche il birozzo shift questo è il doppio ragazzi perché dal tanto che ho questo gioco qui c'è le birre le case di birre no questo è un bunker ragazzi è un bunker fatto bene insomma come lo fallo io il bunker sotto la serra ragazzi insomma c'è tutto il corrente non c'è un cazzo guarda non c'è niente non c'è altro i vasetti c'è 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 tre volte si perchè io non sapevo meglio oh abbiamo fatto da qui non posso fare niente no non può fare niente però può uscire da questa porta oppure abbiamo fatto nulla ma perchè non esce da questa porta no eh perchè non può uscire va beh tocca uscire forze qua va vale un'altra angolazione ma ecco no ecco no ah di qui però ho capito ho fatto il cosmo a uscire se no non è che è uscire da questa casa poi proprio mi è messa pure madonna dai esci di qui oh madonna risposta risposta ah no questo è il gioco ma non mi interessa ah è morto ma questo va distrutto questo cambio della credo poi vi do una bella botta ma non c'è ecco ah ecco mi dispiace carino che cos'è stato ma va a far culo qui ho sentito che qualcuno sostiene di aver inventato un teletrasporto ma vive in una discarica quindi saranno stranzate no? però io ho un'occhiata io un'occhiata all'anaree però io un'occhiata all'anaree però io un'occhiata all'anaree teletrasporto ho detto però io un'occhiata all'anaree teletrasporto dove saranno? non lo so passino no lui non parlava così dice qualcuno che ha inventato il teletrasporto io un'occhiata all'anaree ma come che hai chiesto? ma chi è il doppiatore dei videogiochi? voglio capire una cosa vorrei capire allora teletrasporto allora vediamo un po' beh non dice un'occhiata all'anaree ma dov'è? santi lumi santi i santi sono santi allora sono qua 50 minuti ci vuole oh la madonna per fare la missione mamma mia ma non c'è una una macchina no lo vedo eccolo con un'altra angolazione lo vedo eccolo insomma non c'è un dove sono? il tappetino è troppo piccolino ma come si fa già? ti ho fatto prendere un tappetino mignonne come si fa? andata via qui e senti figlia che questo non ha fatto il cazzo mamma mia sono dietro di te bersaglio avvistato bella è il cazzo oh bella questa pistola veramente la mia preferita è questa magna la mia preferita è questa magna vinde ragazzi vinde vinde è il suo film qua stai viste come il giovane è il vivere fa più del cazzo ci fa e si muore si muore veramente madonna madonna no no mira porca madonna ora è il cazzo ma che cazzo non è possibile io bestemio ragazzi non credo nemmeno quindi insomma se questo annale non vi piace ai credenti in me mi prena si cari mio e faccio il cazzo ossicentare cazzo scendere che cazzo aspetta qui c'è qualcosa che cazzo fa libera si ma ma chi fa questa merda qui ah forse ma ma che cazzo ah eccolo contatto mi hanno un po' d'aiuto per le secondi madonna misera ma che cazzo c'ha l'ho cambiato la che cazzo Ah, va, va, tu! Ah, va, va, tu! ma vattene qui allora questo lo cos'hai? quello lo ah si lo cazzo l'altro ah qui, salve e che c'è il pilla, la lascossa? guarda chi usa? un computer vecchio comunque, ma che cazzo è quell'altro? oh che cazzo oh anche queste versioni, libra leri, leri, che cazzo è questo? oh, capisco lo sai che non vuoi uscire nemmeno quella, vero? ma vattene la picchia pizza, guarda c'è anche i scafelli della pizza, guarda è atto della pizza anche qua, guarda poi compiti vecchi, vediamo, io c'ho questi compiti da una volta ma c'è l'ho ancora io, io, io ah no ha detto che sarebbe arrivato un aiuto il tuo tempismo non è una coincidenza non ci interessano le fondonie della setta è una distrazione inutile è inutile abbiamo cose più importanti da fare eh due parole pericolo imminente altre due catastrofe ma questi mi guardano qua, sono tipo pazzetti guarda, senza emozioni ascoltano tutto quello che diciamo ascoltano le parole chiave così possono localizzarci e ridurci le risole non lo permetteremo no ho un piano per fermarli e tu mi puoi aiutare ma non possiamo fare progressi finchè non distruggiamo i loro dispositivi spia sull'antenna della purple top telecom e se non lo facciamo poi non possiamo interromarli e quindi non possiamo nemmeno girarli e poi si dai hai capito hai capito si entra in scena eh in scena in viaggio dell'errore cazzo 3 per 1 per 3 abusettino ovviamente scommetto che sei fiero di te vero? piccateci ecco c'è c'è missioni ho capito ah è qua in viaggio per cacare ah quello lì sempre ad andare a giudice ma non è qui vicino non è ora però devo andare a dieci sui calcosa non ho chiesto di sapere ma qui è tutto un scatolame di pizza ragazzi pizza pizza quanto mangi pizza carbotati hai proprio cacatone aspetta qui che c'è non ha bloccato dove è il pick up? c'è un pick up c'è anche un rollout arrivate andate andate e che c'è? mi avrebbero ucciso grazie ma che cazzo fa? ce n'è un altro madonna non ci riesco da più come sono finito in questo casino eh boh che ne so vedi qui e basta prendi tutto ma tanto che non c'è l'entrador non sa chi era vabbè questo cazzo quindi una volta non fare pinta di niente vieni qui ah è rimasta ok è pieno è pieno è pieno è pieno è pieno è pieno che sta facendo ma no mi serve a me la macchia e poi ah questa è più bella questa viaggia almeno questa qui c'è la banana qui no qui no questa viaggia va non so se la prego no 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 7 8 7 9 8 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 12 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 18 vai fammi andare qui ok utilizziamo questa rampine andiamo sopra a questa antenna poi sto gioco è tutto così ah no c'è la scaletta andiamo a questa antenna per controllare meglio il punto oddio tanto sono alto porca io non ce la farei andare qui no ma dove vai rincoglionito è già mezzogiorno io salgo su qui io non lo farei male mi verrebbe male però qui siamo sopra qui siamo alti sti cazzo bisogna andare sopra di là rampina eccolo qua vai c'ha una forza sto mino vai ancora più ancora più su lo santo ragazzi minchia altissima st'antenna sti cimitore porca puttana ok sono veramente in alto porca miseria guarda mi sono in alto oddio io ce la farei andare su un'antenna però siccome devo fare qualcosa qui ah distruggi c'è scritto distruggi ah vabbè ma qui sotto c'è questo io ora cosa posso fare posso buttare c'è il paracaduto ah c'è il paracaduto ah c'è il paracaduto ah c'è il paracaduto ah c'è il paracaduto distruggi ah ma distruggi con la intanto mi butto il paracaduto distruggi il paracaduto ah li paravano i satellitari ah li ho sbagliato non ho ah e l'altro credo non è sì vabbè se andavano giù ma ah uno stronzo vabbè tanto si riproffi sbagliato ragazzi vabbè tanto comunque basta andare sui rampini qua si riproffi tanto cioè c'era un po' c'era un po' finto devo dire finto come 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 oggi allora andiamo su andiamo a vedere se mi ascolta distruggi queste parabole non si apriva distruggi parabole 6ari 5 ho capito no questa è una ristrazione più lunga che potevo fare ragazzi ho sbagliato perdonate ah vedi non apri c'è non riuscivo una si però c'è un'altra ah no ah si quelle lì quanto ho intenzione che distruggi queste tene parabole dove è il mondo tu non lo facciamo guarda che andava guarda che andava guarda che andava sono Larry sto arrivando a darti una mano vedi continuo da qua su vedo chiaramente i dispositivi abbi solo pazienza ho imparato volare venti minuti fa N mi ha fatto un corso accelerato eh è grandino aspetta ah questi ah questa qua non è vero qui faceva passati un abrazo ma scusa non c'è qui ah hai portato a lui nell'operatorio siamo al punto di non ritorno se io tu e N non lavoriamo insieme puoi scordarti forse N ma anche il resto del pianeta niente male come passo in gioco eh c'è un termine scientifico per quello che stiamo affrontando alieni eh con alieni alieni anche qua alieni no questi alieni sono delle gran peste di cazzo ah ma che cazzo è stessa gli americani sono fissati ma io non lo so ecco attendiamoci si ritorna al campo suo esce dal piccolo ah no si ma ci sono ah cazzo ci sono allora vediamo un po' questo usiamo usiamo questa cos'è una leva a posizione mi smotto va bene ok vado ah sono tornati visti feroci non temere ho una buona mira mi sposto cerco una visualizzazione mi sposto non posso stare qui va bene non posso mi muo mi muo la notte mi sto solo scaldando sprecate munizioni scoppiata come un melone un melù in che posizione da qui non posso fare niente non puoi la missione è compiuta 700 dollari mi ha dato la missione è compiuta la tua anima è appenerata e malata affetta con cancro deve essere estirpata ma tu rifiuti il mio aiuto rifiuti di dire sì perciò finché non capirai idea ogni pela che causerai al progetto verrà inflitta un milione di volte sui tuoi amici non so quanto Huzzle potrà supportare ancora scelti bene le tue prossime azioni che aserci? oh bello che aserci la gioia gioia per chiedere le visite di provare e storcerci informazioni sulla situazione su Marte quando ci ha segnalato la anomalia delle microonde abbiamo allocato risorse per tenere sotto controllo la situazione Marte è stabile e non sta per esplodere se la situazione dovesse cambiare la contatterò grazie grazie è forza, è un casino, ma che tu fai stai giù? ok c'è anche la caccia ovviamente stai giù un po' ne vediamo un po' ma lei, cioè lei dove cazzo è? non c'è più niente di lei che fa qui? che sta facendo? perché si è nascosto non c'è nulla il bucaiolo ah c'è anche pure ma lei ha risposto quello della trattoria ma lei ha detto è possibile parcheggiare sopra gli impianti sportivi ma tu hai problemi ma io ho capito ma non è vero, non è vero ma chi ci sarà domenica ragazzi ma c'è nessuno non c'è altro che noi la gente è in vacanza nel montagna lì un'escursionista probabilmente tranquilla si trova una bell'ansia c'è una ansia guarda che sto registrando mi sposto cerco una visuale migliore fronte all'attacco riche mutato non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno